Una dichiarazione d'amore al proprio partner e al proprio territorio. Quest'anno non si potrà festeggiare San Valentino con cene galanti al ristorante, ma si potrà far arrivare l'eccellenza dei prodotti tipici nelle proprie case. La provincia di Padova infatti ha lanciato l'iniziativa Saporipadovani che permette con un solo acquisto di dire ti amo alla tua dolce metà e ti voglio bene al tuo territorio. Si tratta di un cofanetto con all'interno un buono di 30 euro da spendere in 30 aziende selezionate del territorio. Le eccellenze come le definiamo noi sono i cosiddetti prodotti tipici, quello che normalmente la gente cerca, cioè i sapori che hanno avuto comunque una storia e che possono raccontare il territorio. Per esempio abbiamo aziende del peperoncino, un'azienda di un ragazzo giovane che è partito da poco e sono tutti prodotti comunque acquistabili nei nostri mercati di Campania Amica. Il buono si può acquistare il 30 gennaio o il 6 febbraio nei corner della provincia Saporipadovani davanti a Palazzo Moroni oppure online dal sito shop.saporipadovani.it. L'iniziativa, visto il successo già ottenuto a Natale, oltre a San Valentino, si ripeterà anche in occasione della festa del papà e della festa della mamma. Il buono di Saporipadovani, che ricordo, dal valore di 30 euro spendibile in 30 aziende agricole del nostro territorio, dove speriamo sia di sostenere le loro attività, sia di far conoscere ai consumatori le eccellenze del nostro territorio che talvolta sono a chilometro zero vicini alla casa nostra ma che purtroppo non abbiamo avuto modo ancora di conoscere.